Eccoci qui a parlare con Marco di Street Mentality dei nuovi arrivi delle scarpe Osiris direttamente dall'America, questa è la prima scarpa al mondo che cambia colore in base alla temperatura adesso vi faccio vedere subito un esempio, adesso fa più o meno freddo cambia colore da solo? si, adesso perché fa freddo adesso puoi alterare la temperatura invece manualmente anche se ti cambia colore da solo, ecco vedete col caldo dello strofinio diventa giallo con l'attrito, verde, verde acido, viola, viola, poi abbiamo blu, caneste, arancione questo colore grigio di fondo è perché c'è la temperatura fissa perché è un tipo di vernice che cambia colore in base alla temperatura è sempre i colori principali che stanno sotto la sulla ah ho capito, quindi scarpa Osiris Osiris, questa è famosa, è Onisex molto comoda perché vedo che è molto imbottita è la New York 83 questa è una scarpa, diciamo è famosa da Osiris per questo modello ma finalizzata così, diciamo per elegante, per passaggio si, è streetwear, street poi abbiamo una remix di un colore stupendo ginsato e verde acido all'interno bellissimo molto alta prodotti di altissima qualità qui i lacci sono quasi inutili perché comunque c'è lo scratch ah c'è lo scratch quindi rimane velocità da mettere si, si, rimane molto comoda lo scratch, bellissimo due colorazioni rifinite in ogni dettaglio poi sono scarpe resistenti perché sento che pesano sono da skate questo è un marchio, non tutte non che nasce questo è un marchio che è nato principalmente per lo skateboard però è il leader in America in questo sport io vedo anche, facciamo una parentesi, vedo che indossi una billabong una bellissima giacchietto come si dice? un giacchietto eco, non so se lo ricordate tutto hai l'eco, questo degli apache, no? che sono degli indiani, warriors warriors bello questo giacchietto allora, sempre la remix colore black e gold molto bello stesso modello anche la sera questa è andata in discoteca questa si, questa è un jeans per ballare bellissimo va bene, vogliamo chiudere il primo video poi no, 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 continuiamo ancora sugli osilis continuiamo che abbiamo altri modelli allora, questo è il modello basico tipo quello superga tipo superga ma molto molto più resistente perché è proprio principalmente fatto per lo skate molto duro come testo vedete, anche le rifiniture molto più rifinite poi abbiamo un modello che le ragazze diventeranno mate ah, fantastiche diventeranno mate che è zebrato lo farei a parte questo qui lo facciamo nel prossimo video allora nel prossimo video stacchiamo un attimo con gli osilis su quella di prima e poi passiamo a quell'altra